E' una prana di capitano dell'Ata Sparcasse, ci voleva davvero questa vittoria, forse è il risultato che vi sblocca? Sì, dovevamo uscire da questo tunnel in cui siamo entrate di continue sconfitte, non eravamo sicure, continui errori, gli allenamenti andavano male, anche l'Under 18 che ha giocato martedì. Le ragazze erano proprio abbattute, quindi ci voleva proprio una svolta. E' stata una partita dove soprattutto avete ritrovato il vostro attacco, su pallata siete andate molto bene, un po' tutte quante, sia tu sia Anna, sia poi quando è subentrata anche Chiara Bottura. Sì, è tornata Anna, finalmente speriamo che resti, che tenga e indubbiamente con tutte le ragazze siamo una squadra che ha delle potenzialità. Magari a volte non riusciamo a sfruttarle, abbiamo timore, non siamo ancora sicure. Pian piano sicuramente questa vittoria è un gradino che ci porterà sulla lunga scala in cui avremo più sicurezze. Vederla da fuori è stata un derby combattuto, 26-24, 25-23, insomma, parziali tirati. Però siete andati un po' entrambi a sprazzi, sfruttando un po' la battuta, insomma, sfruttando le vostre qualità. Sì, siamo comunque una squadra giovane, quindi abbiamo anche noi i nostri momenti di blackout e non riusciamo magari a uscirci. Però quando ingraniamo la marcia sicuramente riusciamo ad andare avanti, che nessuno ci ferma. Siamo alla fine del girone dell'andato ormai. Un tuo bilancio, un tuo parere su questo girone? È difficile, è complicato? Se pensiamo magari a quello dell'anno scorso. Ma devo dire che le squadre più o meno un po' tutte se la giocano. Pensare che Neruda è terza in classifica, insomma, e oggi l'abbiamo battuto, nonostante noi siamo molto più indietro loro in classifica, secondo me ce la giochiamo fino alla fine. Grazie a tutti.